L'ente sviluppo agricolo è già impegnato da alcuni giorni sul territorio di Ribera per la manutenzione della viabilità rurale e contestuale pulizia delle strade. Lo scorso 18 marzo infatti il comune di Ribera ha stipulato una convenzione con l'ente per garantire nei prossimi mesi e prima dell'arrivo della stagione estiva questo importante servizio di pulizia e decoro nonché gli interventi di manutenzione del manto stradale lungo le arterie rurali più dissestate. Saranno effettuati anche interventi di pulizia straordinaria nei siti archeologici del territorio e presso le borgate estive. E c'è la soddisfazione del vice sindaco di Ribera Giuseppe Tramuta che a nome dell'amministrazione comunale e dei consiglieri di maggioranza ringrazia l'ESA per aver mostrato ancora una volta disponibilità ed interesse nei confronti del territorio riberese mettendo a disposizione i mezzi e gli operai necessari affinché vengano garantiti questi interventi straordinari su Ribera. I lavori che hanno già preso il via avranno una durata di circa due mesi. È stato davvero un bel segnale di collaborazione istituzionale soprattutto in vista della prospettiva di rilancio per l'ente affinché si possa ridare dignità agli stessi lavoratori impegnati in prima linea nei servizi di competenza e contemporaneamente avviare altre funzioni strategiche utili al rilancio delle politiche agricole ha concluso il vice sindaco di Ribera. Grazie. 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 Grazie.